ok ora che abbiamo il nostro le nostre animazioni fatte quindi con animazione idle e animazione crunch andiamo a vedere come esportarle in modalità gltf e poi importarle su god o quindi la prima cosa è fare file esporta gltf ok e poi qua occorre fare un po' attenzione cioè bisogna innanzitutto assicurarsi che siamo in modalità oggetto selezioniamo almeno la mesh 1 e shift anche la sua armatura così lui salva diciamo le cose selezionate e poi quando andiamo a fare l'esport di gltf 2.0 andiamo ad accertarci che siano cliccati un bel po di cose quindi direi che su qua va bene così sulle mesh va bene oggetti non ci interessa e sull'animazione ci accertiamo che stia esportando le animazioni nel dubbio mettiamo tutto così cioè questo genera un file leggeramente più grosso ma al limite non perdiamo le animazioni quindi animazioni cerchiamo di esportare tutto ok allora esportiamo a questo punto il batterio video lo chiamo adesso giusto per distinguo dalle altre cose che ho fatte e se faccio l'export ci piego un attimo e abbiamo un batterio video scaricato batterio video eccolo qua sono 671 kilobyte ora andiamo in Godot e qui arriva il punto interessante e ci creiamo un nuovo progetto che ci chiamiamo batterio e qui la cosa importante è di andare a mettere il glb di dentro ora non sempre funziona ma quando funziona è interessante nel senso che possiamo prendere batterio video questo e spostarlo direttamente mettendolo qua ok adesso ha funzionato ho visto che in altre situazioni non funziona se per caso non vi funziona il trascinamento diretto dovete andare sotto show in file manager per vedere dove è il progetto e poi spostate il punto glb dall'altra cartella quindi avreste dovuto fare questo mestiere io non ho capito con quale criterio forse dipende anche dalla versione della beta comunque a volte lo fa e a volte no ora quello che succede che questo lo fa vedere come scena è scaricato sia il batterio video che questo material materiali se voi vedete che è una scena ma questa scena è una scena che va un attimino ricontrollata quindi è una scena che non si posa direttamente ma se provate a cliccarla lui vi chiede se volete se volete aprire quella scena lì che però non potete muoverla toccarla oppure crearne una nuova noi di solito quando cambiamo qualcosa nella struttura di quella di quella scena prendiamo sempre nuova ereditata quindi abbiamo una scena vedete che c'è il nostro bellissimo batterio adesso andiamo a vedere come è fatta questa è la scena root si chiamano scena root questo qui sarebbe il batterio non è salvato quindi questa scena se noi facciamo a questo punto il ctrl s credo ci chiede di salvarlo non la chiameremo scena root ma facciamo scena batterio ereditata giusto per ricordarci che l'abbiamo ereditata scena batterio ereditata qualcuno mi diceva di non cambiare gli nomi ma il problema è che se si lascia scena root qua non si capisce molto dopo però vedete che comunque questa scena è rotta è ereditata e c'è quella di base quella di base però per il momento non la guardiamo quindi noi lavoriamo su questa ora quello che vedete che ci sono due armature le due armature sono c'è una mesh e ci sono delle armature che servono sostanzialmente credo che siano i due pezzi di armatura quindi i tre pezzi che abbiamo visto ma poi c'è quello che è importante l'animation player e se andate a vedere l'animation player vedete che lui vi ha esportato sia il crunch che l'animazione idle che è questa e durano tutte eccole ridotte perché quando fa vedere questo che durano un pochino meno di 4 secondi è perché c'è una leggera variazione del numero di frame per secondo quindi questo vedete che questa animazione due a tre secondi a 33 secondi e invece prima abbiamo visti che erano noi ci aspettavamo che fosse a 4 secondi in realtà erano cos'era 80 quindi a 30 insomma comunque sappiate che quello che interessa che l'animazione c'è se per caso l'animazione fosse troppo lenta adesso la vediamo e le correggiamo quindi per vedere l'animazione è sufficiente fare il play su questo e quindi se facciamo il play vedete che abbiamo il nostro il nostro batterio che oscilla e fa tutti i suoi mestieri con i suoi ossi piede testa corpo vedete che fa una sola animazione di questo tipo e poi si ferma quindi noi per farla perenne dobbiamo cliccare qui dove dice loop allora se facciamo il loop l'animazione vedete che va su e giù e quindi si è fatto il nostro mestiere se vogliamo vedere il comportamento dell'altra animazione che è questa crunch andiamo su crunch qui andiamo su 0 facciamo play e vediamo l'animazione di crunch e che c'è anche qui quel ingrossamento abbiamo anche qui il problema del fatto che deve ripeterlo quindi facciamo così e che lui a questo punto l'animazione la ripete ora se questa animazione è troppo lenta troppo veloce si può modificare la velocità la velocità e qui tra l'altro gli snaps sono il numero di modi in cui quanti ne ha fatti per ottenere le risoluzioni di solito il default lui calcola partendo dalle keyframe quante posizioni intermedie se vedete che va troppo a scatti dovreste ridurre questo numero a un valore più piccolo ma direi che in questo momento va benissimo quindi abbiamo le animazioni e poi fra le due dovete tipicamente sceglierne una e direi che questa è l'animazione di auto play quindi facendo così auto play quando viene caricato questo oggetto in una scena questo oggetto si muoverà automaticamente ora vedremo che adesso faremo una scena e tra l'altro faremo una scena in cui cercheremo di far ruotare una telecamera attorno a questo questo batterio ma vedremo che senza script saremo sia per bacchi qualche bacchetto che c'è in godò e sia perché lo script ci permette di andare avanti in maniera in maniera controllata cioè far vedere tutto come dia comanda ci fermeremo al momento di iniziare lo script e poi nel video successivo vedremo invece la parte di script questo per coloro che trovano antipatico lo script però vedete che anche solo con le animazioni ne avremo un po' di cosette da vedere allora costruiamo una scena nuova e questa scena ci mettiamo dentro quindi una 3d scena quindi sarà questo qui il chiamiamola main scena principale che è quella che vogliamo far partire all'inizio e dentro questa scena facciamo ctrl s main se la salva allora ci mettiamo innanzitutto il batterio la scena batterio ereditata questa quindi c'è il batterio sappiamo che per vederlo dobbiamo aggiungerci una telecamera alla telecamera facciamo figlia di main più camera mettiamo la camera 3d camera 3d ora è messa lì la mettiamo in modo tale che che vede il batterio quindi la sposte di allontaniamo un po' andiamo in anteprima per vedere se ce lo sta vedendo allora dobbiamo alzare un po' la telecamera click portiamo un po' più in alto click ok già questo potrebbe andare bene ok ora se lanciassimo questa scena credo che proviamo a vedere quindi lanciamo questa scena quindi facciamo il play di questo lui ci chiede qual è la scena che vogliamo lanciare come main ed è main ok e vedete che sta ecco però ecco l'unico problema è che non è andata in loop l'animazione ora perché non si è andata in loop l'animazione questo è un mistero che poi ho risolto con lo scripting secondo me è un piccolo bacchetto perché dovrebbe ricordarsi che è in animazione però come avete visto siamo già arrivati al punto in cui l'oggetto si fa il suo mestiere ora senza script l'unica cosa che possiamo vedere è di mettere come default nell'animazione anziché l'idle che è questo gli possiamo mettere il crunch vedete che qui c'è il simbolo di auto crunch mettiamo come auto start questo quindi facciamo save quindi a questo punto se passiamo al play di questa scena abbiamo l'altra animazione vedete che senza script abbiamo il problema che vediamo solo un'animazione per volta e che non riusciamo a fargli l'animazione insomma persistente o almeno io non ci sono riuscito ora questa scena io per farla un po' meglio ci ho messo una specie di piano sotto così si vede quindi ho fatto un più e gli ho messo una mesh una mesh semplice quindi non l'ho fatta in non l'ho fatta in blender ma gli dico a lui di generarmene una con un cubo vedete questo cubo facciamo un po' come in blender qui c'è una specie di mini blender in pratica interno facciamo così questo cubo lo facciamo un po' largo facciamo un po' più sottile questo diventa un piano e poi andiamo nel movimento questo facciamo un po' più basso ok quindi quello che abbiamo ottenuto adesso ah questo l'ho messo nella scena del batterio interessante andiamo un po' se funzionerebbe funzionerebbe sì più o meno ci sta non viene influenzata dell'animazione in realtà io l'avrei voluta mettere nella scena di là quindi qui possiamo fare ecco il problema che ho è che non c'è un copia quindi per c'è ancora questo piccolo problema a meno che in questo piano non gli faccio un salva ramo come scena quindi lo faccio diventare piano quindi c'è un piano quindi a questo punto dovrebbe esserci il piano tscn e possiamo metterlo qui possiamo anche tolgerlo elimino il nodo da qua e lo mettiamo in realtà nel ctrl s lo mettiamo nel main qui ci elenchiamo il piano ok questo mi piace di più che abbiamo messo questa mesh instance che sarebbe il piano che è la scena derivata ora per arrivare al livello in cui era nel video nel primo esempio abbiamo visto che c'era la camera che adesso la camera che è un po' ah qui l'anteprima togliamo l'anteprima la camera è ferma allora come faccio a far muovere la camera allora la tecnica che ho usato è molto semplice metto un oggetto un nodo vuoto figlio di main quindi faccio più metto un special questo special serve solo per comandare la telecamera quindi lo metto come perno perno attorno al quale voglio far ruotare la telecamera quindi se voglio che la camera segua quel perno semplicemente gliela metto come figlia quindi a questo punto quello che succede è che il perno che ha delle coordinate le coordinate del perno sono rotazione sono queste quindi ora quello che succede è che se io giro il perno anche la telecamera mi segue questa qui è la cosa importante cioè che la telecamera in realtà per animare la telecamera per fargli fare un giro attorno al nostro batterio io semplicemente gli ho creato un perno che ruoterà allora come faccio a far ruotare il perno? per far ruotare il perno devo avere un altro animation player quindi cosa faccio? faccio un... anche nella scena principale faccio più e faccio un... cerco animation player questo animation player questo qui adesso piloterà il perno allora del perno cosa mi interessa pilotare in realtà? voglio pilotare il... transform voglio pilotare la rotation quindi come faccio? vado sull'animation player qua animazione vedete che ce l'ho e cliccando devo fare nuovo e lo chiamo perno telecamera camera e abbiamo il perno della telecamera allora quando ho questa questa animazione qui devo aggiungersi delle tracce delle tracce per raggiungere la traccia è sufficiente che vada sul mio oggetto che voglio animare io voglio animare la telecamera no? però in realtà è più semplice animare il perno e quindi clicco su perno e vedete che una volta che ho l'animazione sotto mi compaiono delle chiavi queste chiavi sono esattamente le I che avevo in blender l'animazione attorno all'asse Y l'asse Y qua è verticale mi dice che la posizione iniziale sia 0 ok? quindi ho messo 0 come animazione e poi qui posso vedete che qui siamo sul frame 1 se qui clicco sulla chiave crea una traccia e questa traccia è praticamente la rotazione del perno che è al momento 1 in realtà è quello che volevo fare era una cosa un'animazione lunga per dire 4 secondi e questo la posizione iniziale la volevo mettere nel primo nel primo frame utile qua ok? quindi al momento 0 voglio che la rotazione sia di 0 quindi il valore 0 0 0 questi qui sono il valore della rotazione di questo oggetto andiamo al momento 1 e qui voglio animarlo e voglio mettere 90 gradi cioè voglio praticamente mettere Y 90 gradi e come vedete F main ok cerchiamo di ripartire da capo quindi cancelliamo un po' questi keyframe e riparto quindi selezionato questo vedete il primo keyframe 0 è associato al perno e il perno quando lo clicco è in posizione 0 0 0 ora se io voglio invece che a un secondo la telecamera si muova quindi cosa faccio clicco qua muovo il perno in modo tale che muova la telecamera gli metto 90 gradi e poi aggiungo la chiave vedete che ha aggiunto questa chiave ora vedete che lui effettivamente assume tutte le posizioni intermedie tra 0 e 90 gradi a questo punto andiamo a 2 a 2 e gli mettiamo la rotazione del perno 180 e quindi lui vedete che è andato dall'altra parte aggiungo la rotazione vado al momento 3 secondi il perno lo metto 270 gradi salvo questa informazione è comparsa la chiave vado infine e qui il discorso simile a blender vado a mettere 360 e completo il giro e metto anche qui il mio oggetto a questo punto qui posso anche qui fare il il play magari così e vedete che la telecamera si muove sempre osservando il mio oggetto se poi gli metto il questo che lo fa andare in in loop questo dovrebbe funzionare quindi se noi a questo punto prendiamo main facciamo play quello che dovrebbe succedere ecco vedete che non ah forse non gli ho messo l'animazione iniziale vediamo vedete current animation stop e gli devo mettere invece perno camera quindi parte con quello in più perno camera gli ho messo come out load così ok a questo punto ripeto il play della scena e vedete che abbiamo effettivamente il giro e questa telecamera continua a girare quello che quello che non funzionava era il loop sull'animazione importata glb abbiamo visto dato che la telecamera adesso sta girando troppo velocemente se vogliamo farla un po' più lentamente possiamo andare sul playback animation speed anziché 1 gli possiamo mettere 0.1 che va molto più lenta e poi riproviamo e vedete che adesso è molto più lenta quindi potete controllare la velocità ecco ho fatto il piano sotto per capire insomma come stiamo muovendo in realtà dopo un po' si vedrà apparire anche il sole ma questo è in sintesi il pezzettino che vi fa vedere come ho sono riuscito a fare in realtà qui abbiamo due animation player uno che fa girare la telecamera agendo sul qui la telecamera è questa ma io faccio ruotare il perno di cui la camera è figlia e quindi la camera fa quello che gli ho detto di fare abbiamo il piano che è questo e abbiamo questo sceneroute che è il nostro batterio che c'è la sua animazione ora nel prossimo video farò vedere il progetto completo dove ho messo tutto insieme ho messo anche una piccola gui e che fa quello che avete visto nel video anche con gli oggetti con il punto oggi che serve per far vedere per far sentire dare un effetto sonoro questo credo che sia tutto per il momento ci vediamo al momento di aggiungere i vari script